Tre vittime negli ultimi sette anni e più di 20 incidenti stradali, un incrocio killer, quello alla periferia est dell'Aquila, tra le strade statali 17 e 261. L'ultima vittima, Valentina, era una giovane di 26 anni, uccisa, è il termine più adatto, da un Audi proveniente da Poggio Picenzi a tutta velocità. E la politica è colpevole, anche se oggi appare forse ipocrita nel cordoglio e nelle soluzioni paventate, perché sono anni che se ne discute, ma sulla viabilità in quella zona non è mai stato fatto nulla. Si parla della variante sud ormai da anni, finanziamenti e progetti più volte ritoccati, mentre troppo spesso si piangono i morti. E mentre la politica negli anni si è riempita impropriamente la bocca di parole sulla strada, tante rotatorie sono state fatte, ma non in quel punto che è il più pericoloso. Sono altrettanti anni però che i cittadini e residenti chiedono interventi, ben consci della pericolosità della strada. Ci vorranno altri anni ora, altri morti? Intanto il vice sindaco Liris per tamponare vorrebbe realizzare una rotatoria e stralcio al maxiprogetto, un'ipotesi sulla quale ora si ragionerà con l'ANAS, che lo ricordiamo a competenza su quel tratto di strada e con ferrovie dello Stato. Un lungo elenco, dicevamo, di incidenti e di morti. Nel 2014, nello stesso punto, perse la vita un'altra giovanissima vittima, Susanna. Aveva solo 12 anni, travolta da un'auto mentre attraversava la strada con la mamma, anche la rimasta ferita. Nel 2015 perse la vita Pierluigi, un giovane motociclista di Poggio Picenze che viaggiava verso l'Aquila. E ancora prima, negli anni 80, un bambino fu ucciso, travolto mentre attraversava le strade. Era un piccolo ospite della comunità delle Suori di San Gregorio. L'elenco è lunghissimo, incidenti nel 2010, nel 2011, nel 2012 e ancora nel 2013, fino ad arrivare ad oggi, in media un ogni anno di diversa gravità, ma nessuna risposta da chi doveva decidere. Oggi se ne parla, dicevamo, con ipocrisia troppo spesso, quando sarebbe invece solo il momento di tacere e risolvere una volta per tutte la questione. L'uomo che guidava la macchina che ha ucciso Valentina è un kosovaro di 46 anni che non è stato arrestato, in quanto non trovato dopo le analisi stato positivo agli accertamenti per alcol e droga, ma dovrà comunque rispondere di omicidio stradale. Ovviamente la procura ha aperto un fascicolo. La certezza è che anche grazie alle testimonianze dei presenti, l'Audi che ha ucciso Valentina è piombata come un fulmine sulla strada, con una velocità di certo superiore, anche di molto, al limite di velocità che dovrebbe valere per quella strada pericolosissima.